Veniamo al decreto lavoro che è stato varato da Giorgia Meloni il primo maggio. Abbiamo visto che sindacati, Partito Democratico e Cinque Stelle si stanno mobilitando contro e l'hanno ribattezzato decreto della precarietà. Ma non conta di più il taglio al cuneo fiscale che aiuta oggettivamente chi ha salari più deboli e più bassi? Beh, dunque, ci sono molte cose in questa iniziativa del governo sul lavoro. Non soltanto il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle hanno preso la posizione che veniva detta adesso. Anche, diciamo, dei grandi quotidiani internazionali, fra tutti i Le Monde e il Financial Times, hanno rilevato come evidentemente ci siano delle misure all'interno di questo decreto del governo che evidentemente hanno a che fare con un incentivo alla precarietà. Mi permette di dire due cose. Noi viviamo in un paese in cui ci sono, dicono i dati, 4 milioni di poveri e oltre 3 milioni di precari, soprattutto sono donne. Il Covid ha aumentato, fa l'altro, la dimensione del precariato in modo esponenziale. C'è una indagine che mi ha molto colpito, uscita sul New York Times, in cui si domandava a dei ragazzi, dei ragazzi diciamo fra i 18 e i 25 anni, quali fossero i due sostantivi che associavano al sostantivo lavoro. Sa qual è stata la risposta della gran parte degli intervistati? Hanno detto che il lavoro lo collegano ad angoscia. Questa è una cosa che non riguarda solo gli Stati Uniti, riguarda anche noi. Il mondo del lavoro dai giovani è vissuto come fonte di terrore, di angoscia, perché non ha certezza, non ti dà gli elementi per costruire una vita, non ti consente di sperare in un futuro, niente e niente. Dentro questo provvedimento del governo c'è un qualcosa che riguarda i contratti a termine, che di fatto vengono prorogati e si creano dei meccanismi per cui le cause potrebbero essere aumentate. Si ripristinano i voucher. E poi mi faccia dire una cosa sul mondo del lavoro, perché ci tengo tantissimo. Allora io tengo a far vedere questa immagine, che è l'immagine di Luana Dorazio, che esattamente un anno fa, oggi, 3 maggio, anzi due anni fa, scusatemi, del 2021, moriva stritolata da un telaio con delle responsabilità precise. Allora mi fa dire che quando si parla di mondo del lavoro e fa all'alto il mondo della precarietà è molto limitrofo, non sovrapponibile, ma limitrofo a quello della scarsa manutenzione e della scarsa formazione sui posti di lavoro. Fatemi dire che quando in questo paese verrà istituito l'omicidio per lavoro, cioè coloro che non provvedono alla corretta manutenzione dei macchinari e a mettere le persone nelle condizioni di poter tornare a casa la sera. Lavorare in sicurezza, certo. E ce lo dobbiamo mettere bene in testa, perché dal 1 gennaio del 2022 ad ora sono oltre 1.200 i disperati che non sono tornati a casa la sera andando a lavorare. Ne è morto uno poche ore fa a Palermo, Marocchino, finendo dentro un autocompattatore e un altro poche ore fa a Barberino Valdelsa, finendo con il muletto dentro il vano Montacariche. La lista potrebbe aumentare. Basta con i morti sul lavoro. Al lavoro si va per guadagnarsi da vivere, non per guadagnarsi da morire.